Ha lasciato Riace poco dopo le 6 di questa mattina Domenico Lucano, il sindaco sospeso per il quale ieri il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha revocato gli arresti domiciliari, disponendo però nei suoi confronti il divieto di dimora. Resta a Riace invece la compagna di Lucano per la quale il divieto di dimora è stato attenuato con la misura dell'obbligo di firma. Si sarebbe trasferito in un centro del circondariario non troppo lontano dal suo paese d'origine. Pur rispettando l'obbligo di allontanarsi dal paese di cui è sindaco, sia pure sospeso dopo l'arresto, Lucano si sarebbe spostato infatti di pochissimo. A Riace provvederanno a proseguire l'attività di assistenza ai circa 150 migranti che si trovano ancora in paese, la compagna etiope e poi i numerosi volontari che da anni collaborano con Lucano e l'amministrazione comunale, tutti intenzionati a portare ancora avanti con l'autofinanziamento e contributi quel modello di Riace di cui il governo ha decretato la soppressione con l'uscita dallo Sprar. Su come andare avanti senza i soldi del Viminale, Lucano un'idea ce l'ha già e si tratta di puntare sui laboratori artigiani avviati in questi anni dai migranti che si sono stabiliti in paese sul frantoio, rendere produttiva e in definitiva le attività di un borgo ormai conosciuto in tutto il mondo. In sintesi ha spiegato Lucano fare un'accoglienza spontanea così come era cominciata nel 1998 con lo sbarco di 200 profughi dal Kurdistan. Da allora Riace non è più solo il paese dei bronzi ma anche quello dell'accoglienza. Intanto continuano ad arrivare gli attestati di stima e solidarietà alla sindaco sospeso. Caro Mimmo lo so che non lascerai la tua e la nostra amata Calabria ma se vuoi ti ospitiamo con amore a Napoli. Il divieto di dimora nella tua Riace è peggio degli arresti domiciliari ma non potranno mai arrestare la tua rivoluzione. Riace vivrà con Lucano sindaco. Lo scrive infatti su Twitter il sindaco di Napoli Luigi De Magistris.